Questa è solo una delle rampe di corso francese. La quantità di spazzatura è incredibile. Il passaggio petonale è inesistente, solo rami secchi di tutte le dimensioni, rovi, tronchi giganteschi, accumulati in una foresta dove le macchine sfrecciano. Tra poco sarà buio e qui ci sarà una foresta e nient'altro. Ecco l'auditorium. Qui c'è l'auditorium. Qui c'è l'auditorium. Qui c'è l'auditorium. Se uno dei tanti rami cadesse in questo punto potrebbe succedere qualcosa di drammatico. perché le macchine arrivano in velocità nel buio completo. Buio totale. I rampioni non arrivano. Qui cadesse nell'auditorium indigeni che pisciano e tanti tanti rami di tutte le dimensioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.